Giovedì 17 agosto in primo piano nel TGL News, tre giovani minorenni che sono stati individuati perché responsabili dei graffiti, delle scritte con la bomboletta spray di colore nero che avevano imbrattato le colonne di Palazzo Gotico nelle scorse settimane. Auguri Aurora, questi tre giovani, due ragazzi e una ragazza avevano voluto fare così gli auguri a una coetanea che compiva 18 anni nel peggiore dei modi, sono stati denunciati alla procura dei minori di Bologna, i genitori si sono già offerti di rifondere il danno però per loro i guai purtroppo proseguono un atto davvero sconsiderato. A proposito di cronaca andiamo a Ponte dell'Oglio, ennesimo furto in un'abitazione, un'abitazione privata, i residenti si dicono esasperati perché continuano questi episodi e sempre per la cronaca a Bobbio dopo la rissa di Ferragosto si è scoperto che proprio la sera del 15 qualche vandalo si era introdotto nel castello Malaspina, danni per 10.000 euro rovinati i servizi, anche tutto quello che questi ragazzi, probabilmente si tratta di giovani, hanno trovato sul loro cammino al castello Malaspina di Bobbio. Chiudiamo parlando di sport perché ieri sera c'è stato il grande successo della Stracastello, la corsa di 10 chilometri e le passeggiate proprio a Castel San Giovanni, quasi 600 i partecipanti per una manifestazione estiva che raccoglie sempre grande successo. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it e tra poco nel TGL delle 19.30. Grazie a tutti. Grazie a tutti.